Leonardo Silva Revisorevole 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 Fate mai caso alle cose che raccogliete da terra? Che so, stamattina, ad esempio, cosa avete raccolto da terra? Magari lo zaino, la borsa, lo smartphone, sperando che non si sia rotto il vetro. Se invece vi chiedessi di pensare a cosa raccogliete da terra ogni giorno al lavoro, probabilmente avreste un po' di difficoltà a ricordarlo e molto probabilmente dimentichereste proprio la cosa più importante, quella che raccogliete da terra ogni giorno e chissà da quanto tempo. Intanto dovete sapere che quando gli organizzatori mi hanno invitato a questo evento io sono andato un po' in panico perché la parola terra da un po' di giorni a questa parte sarà l'effetto Greta, probabilmente. Mi ricorda tutto quello che è la tutela dell'ambiente. E diciamo che non sono propriamente i miei temi. Poi, qualche sera fa, a Pasqua, durante uno di quei momenti di malinconia che credo sia capitato anche a voi, però voi ora non ci pensate e concentratevi sulla mia malinconia. Insomma, a Pasqua è arrivata l'illuminazione. A esame su caffè a terra, mi diceva mio padre quando ero piccolo. Alziamo questo caffè da terra. Allora ho capito che in quel momento, qui oggi, insieme a voi, avrei voluto capire appunto quello che noi ogni giorno alziamo da terra e dove ci può portare. Io, quando ero piccolo, seguivo spesso mio padre al lavoro. Quando sentite la parola quando sentite la frase preparare il caffè probabilmente pensate ai gesti più comuni ossia quello della macchina moca sul fuoco oppure quello del barista sul banco bar. Ecco, per me preparare il caffè ha sempre avuto tutt'altro significato. Era quello che faceva mio padre quando andava al lavoro e io lo seguivo spesso. Mio padre entrava in torrefazione, caricava un bidone pieno di caffè che faceva scendere dai silos, si piegava sulle ginocchia, lo portava sulla spalla e si dirigeva verso la pesatrice che era la bilancia elettronica. Riversava tutto dentro a questa enorme macchina di ferro a forma di imbuto poi prendeva una busta come questa infilava tutto il braccio dentro apriva la mano per formare la base e la riposava sulla bilancia. Premiva un pedale che era in terra che a me sembrava quello delle vecchie macchine tozzi tozzi come diciamo a Napoli cioè lato scontro delle giostrine per intenderci e lì per sette secondi scendeva in caffè nella busta facendo il rumore che sembrava quello della grandine sui tetti di lamiera. Poi riprendeva la busta, la riposava in terra insieme a infilare altre e ricominciava. Aveva un ritmo perfetto mio padre. e io stavo lì che lo guardavo, lo ammiravo e gli giravo intorno. Girando, girando, cadevano tutti i caffè. Ecco, non succedeva perché ero distratto, anzi, ero concentratissimo. Succedeva probabilmente perché non avevo ancora di mistichezza con gli spazi in cui mi muovevo e con i tempi in cui mi muovevo. Poi guardavo mio padre e gli dicevo non ti preoccupare, li alzo io e papà me li faceva raccogliere uno ad uno quei chicchi di caffè. Spazio e tempo, ricordate. Ecco, queste 9.000 chicchi di caffè per me oggi non sono importanti in quanto tali, in quanto caffè. sono importanti perché col tempo ho capito che avrei dovuto imparare a misurarli, avrei dovuto imparare a guardare oltre, con una prospettiva internazionale, non locale. Volevo che il nostro mercato diventasse glocale, altrimenti questi 9.000 chicchi di caffè sarebbero rimasti lì ammeliti. A proposito, si sente l'accento? Che sa da sentì? Si deve sentire, perché si è sviluppato lì, in quella periferia al nord di Napoli, dove già oggi è complicato fare impresa. Quando ero adolescente io era ancora più difficile. Ricordo che sentivo parlare mio padre e mio fratello della possibilità di gestione dei marchi e del macchinario. poi probabilmente siamo stati bravi a capire quali fossero i nostri limiti all'epoca e a cercare di cambiare. Allora abbiamo iniziato a guardare questi chicchi di caffè sotto un'altra ottica. Vi abbiamo dato probabilmente un altro peso. Voi sapete quando pesa un chicco di caffè? No. Volete provare? Secondo voi quanto pesa? Pesa 0,1 grammo. La decima parte di un grammo. Leggerino. E invece sapete quando è che inizia a diventare pesante? quando iniziamo a guardarlo come un dato. Ecco, nel momento in cui noi riusciamo a capire il valore dei dati, cambia tutto. Gli spazi dove lavoriamo diventano dati. I tempi con cui ci muoviamo diventano dati. E si incrociano, possiamo incrociarli con altri dati che derivano da fuori, dai mercati. E se siamo bene poi, se siamo bravi ad analizzarli, questi dati, riusciamo a crescere. Perché riusciamo a capire dove dobbiamo andare. Ecco, io ho iniziato a capire il valore dei dati raccogliendoli da terra. Così, come mi faceva fare mio padre con i chicchi di caffè. Noi abbiamo dati ovunque. Voi avete dati ovunque. però talvolta, a causa della nostra ignoranza o della distrazione, non li usiamo. Ed è un peccato enorme. Perché poi ci chiediamo perché le nostre aziende rischiano l'implosione. erano gli anni, quando l'ho capito, dello sviluppo dei marketplace e dei social network in Italia. A me piaceva sperimentare e studiare. Più studiavo, più sperimentavo. Da un lato, avevamo il commercio che stava diventando elettronico. Dall'altro, le persone che stavano iniziando a popolare i social. Avete presente il vecchio e tradizionale passaparola? Il mercatino rionale? Uguale. Semplicemente quelle dinamiche stavano iniziando a diventare digitali. E io dovevo capirlo ed essere bravo ad incastrare le due cose. Dovevo iniziare a comunicare. Così, però, non volevo farlo con le classiche e tradizionali pubblicità costosissime. E allora ho fatto un inverso. Ho aperto la porta dell'autorefazione a 7 miliardi di potenziali clienti. Ho iniziato a comunicare quello che per me voleva dire preparare il caffè. In quel momento ha preso un valore assoluto, una verità assoluta, la prima famosa tesi del manifesto di Cloutrain. Ossia che i mercati sono conversazioni. Abbiamo venduto il nostro primo box di caffè durante la semifinale del Mondiale del 2006 Italia-Germani. Ecco, a me piace pensare che ci sono dei momenti che resteranno indelebili. Quel goal di grosso è un momento che per noi resterà per sempre. Allo stesso tempo, negli stessi anni, gli esperti di digital marketing iniziavano a parlare di ascolto della rete. Bisognava capire quello che la rete diceva, nei social, ovunque, per provare poi a soddisfare i suoi bisogni, quelli della rete. Io mi sono sempre spinto un po' oltre, ho sempre aspirato una comunicazione che andasse oltre all'ascolto della rete intesa come entità astratta. Ho sempre voluto un dialogo con l'utente, un utente che avesse un nome, un cognome e una faccia, proprio come noi. Non ho mai concepito quello stupido claim che vuole che il cliente ha sempre ragione. Perché non è vero che il cliente ha sempre ragione. E comunque, tutte le volte che ha ragione, anche il cliente può essere comprensivo ed empatico verso il brand, così come il brand deve essere empatico e comprensivo verso il cliente. Ed è questo concetto importantissimo, perché ogni volta che noi lasciamo una lamentela online verso un'azienda, questo è un dato, ed è un dato negativo che si ripercuoterà prima sulla reputazione del brand e poi sul fatturato di riflesso. E quindi non li facciamo crescere. Su questa visione, anzi, vi dirò prima, che per fare questo occorre creare un rapporto di sintonia e fiducia con i clienti. Però l'importante non è soltanto crearlo, l'importante poi è tenerlo nel tempo, persona per persona, cliente per cliente. In questo modo il brand può anche fungere da educatore nei confronti del cliente, non soltanto sui suoi prodotti, ma anche sul sistema lavoro, in generale su come si vive in altri canali di mercato, ad esempio online. Su questa visione, qualche tempo fa, qualche anno fa, un noto direttore marketing di una grossa multinazionale italiana mi ha detto, eh, tu parli così perché non ti rendi conto, perché gestisci una piccola azienda. No, io parlo così perché sono fermamente convinto che il rapporto umano sia forse l'unico elemento che in azienda non debba mai essere automatizzato. Più cresceranno i numeri dei nostri clienti, più saremo noi in grado di gestirli uno ad uno e più i brand avranno successo. Io credo che la compravendita sia una cosa semplicissima. È uno scambio tra persone. Da un lato ci sono persone che i prodotti li preparano e li vendono. Dall'altro ci sono persone che li acquistano e li consumano. Si tratta di scambi commerciali. Il commercio è fatto di persone. Il commercio è una parte della società e le persone sono persone fisiche e persone giuridiche. E noi dobbiamo capire tutti che anche le persone giuridiche, cioè le aziende, sono fatte da persone come noi. Che un giorno abbiamo un ruolo, quello del cliente, l'altro abbiamo un altro ruolo, quello del fornitore. Per farlo però, ovviamente per ristaurare questo tipo di rapporto, dobbiamo noi essere per primi consapevoli dei nostri limiti perché siamo artigiani ed in quanto artigiani non saremo mai perfetti. Lo dobbiamo sapere e lo dobbiamo ammettere, altrimenti non saremo mai credibili agli occhi di quei clienti a cui magari domani dobbiamo chiedere comprensione per un nostro eventuale errore. Però attenzione, che sul concetto di artigianato voglio essere chiaro. Io non sono per il concetto di piccolo e bello. Dobbiamo imparare a risolvere i problemi. Dobbiamo imparare a crescere. Quindi dobbiamo iniziare a valorizzarla, sì, l'artigianalità e tutto il comparto artigianale. Però dobbiamo capire come dobbiamo crescere. Vedete? Mio padre, sempre, anche negli ultimi tempi, in cui mi inventò rifazione che non stava bene, capitava che rispondesse al telefono. quando si trattava di un cliente che chiedeva informazioni sul prodotto, lui tranquillamente riusciva a risolvere tutto. Quando invece si trattava di una richiesta di informazioni, magari su una spedizione, non consegnata in tempo, ecco allora che mio padre segnava tutto. e quando io tornavo mi dava quel bigliettino con suo scritto – indovinate che cosa? – i dati, tutti i dati di quel cliente. E mi diceva, ha chiamato tizio, dice che ha un problema con la spedizione, mi raccomando, chiamalo che pare brutto. Controlla e chiamalo che pare brutto. Quindi rigoroso. Lavora, verifica e risolve il problema al cliente. Che sembra brutto, allora il rispetto verso quel cliente. Perché ci ha scelto. E se non lo richiami, non ci sceglierà più. Semplice. Controlla e chiamalo. In questa frase c'è tutto. Vedete, io credo che mio padre, quando ero piccolo, lasciandomi raccogliere quei chicchi di caffè ad uno ad uno, mi ha insegnato le cose più importanti. Il valore del tempo, l'interpretazione dei dati e il rispetto per le persone. Grazie.